Immagini di un'altra domenica di ordinario lockdown a Lucca. Tra l'altro una giornata davvero bella, con un'atmosfera da primavera inoltrata. Pochissime auto sulle strade, pochissima gente in giro. Dentro le mura c'è una città perfetta nelle sue geometrie e negli scorci monumentali, ma quasi completamente senza vita, a tratti simile a un quadro di De Chirico. La fase 2 in questa atmosfera sembra lontanissima, eppure dal 4 maggio in poi è prevista la primavera ripresa delle attività e degli spostamenti, sia pure con importanti limitazioni. Intanto, dal sito internet del Governo, è arrivato un chiarimento riguardante le attività motorie. Chi abita vicino al mare già ora può fare il bagno, purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Il via libera rientra nel permesso già in vigore di svolgere attività motorie nei pressi della propria abitazione. Quindi può fare il bagno solo chi può raggiungere il mare da casa propria senza che si renda necessario l'utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati nei significativi spostamenti. Tutto questo a meno che non esistano divieti più stringenti, imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.